Da oggi tornano fruibili ingresso e uscita all'assa attrezzato qui alle torri Camuzzi in attesa dell'apertura del Ponte Nuovo. Sì, intanto un piccolo grande sollievo per la città di Pescara, le rampe di accesso e di uscita dall'assa attrezzato lato di torri Camuzzi verranno riaperte tra qualche minuto, tra qualche istante, insomma un beneficio per l'intera città anche perché sappiamo da studi condotti dal comune che sono rampe particolarmente utilizzate parliamo di 10.000 macchine, 10.400 macchine dalle 7.30 alle 19.30 per quanto riguarda la rampa di accesso insomma con un picco di 900 e passa macchine tra le 18.30 e le 19.30 questo ci aiuta a capire quanto aiuterà a diffondere, a fluidificare quindi il traffico sulla città la riapertura della rampa di accesso e di uscita dell'assa attrezzato e poi aspettiamo il Ponte Ponte che è anche qui destinato a cambiare la viabilità di Pescara perché diciamo eviterà un ingorgo pesante nella zona di San Cetteo Assolutamente sì, non solo nella zona di San Cetteo ma anche nella zona di Piazza Italia dove è situata la sede istituzionale del comune di Pescara la viabilità naturalmente cambierà, adesso stiamo valutando se cambiarla congiuntamente alla riapertura del ponte o soltanto dopo un piccolo periodo di assestamento quindi non sarà soltanto il ponte ma cambieranno anche i flussi viari nella parte di via Ferrari via del circuito, insomma lo stiamo studiando e stiamo vedendo anche il periodo in cui attuarlo fermo restando che aspettiamo scaramanticamente dalla data del 28 e 29 di aprile che è la data in cui verrà effettuato il collaudo statico l'ingegner Rossi qui a fianco a me mi dice di pazientare, di aspettare questa data fatidica il nostro ponte, il Ponte Nuovo sarà provato, messo a prova da 11 camion di 43 tonnellate ciascuno e verranno prima accoppiate su una corsia e poi sull'altra ci sarà un sensore che valuterà che il ponte non si abbassi più di 10 centimetri quindi fino a quella data, fino al deposito del verbale al genio civile noi non daremo date di riapertura del ponte e poi subito dopo valuteremo con il sindaco